Grazie. Oggi penso che sia evidente a tutti la minaccia più grave per i cittadini europei è rappresentata dall'inarrestabile crescita dei prezzi del gas, con le ripercussioni che stanno distruggendo intere realtà industriali, stanno uccidendo l'economia reale e quella della vita delle famiglie anche medie. Occorre perciò che si vada alla radice del problema. Non bastano i sussidi, non bastano gli aiuti di Stato, non si può continuare all'infinito con questi mezzi. Chiediamo alla Commissione di preparare, dopo la riunione del Consiglio della scorsa settimana, delle proposte concrete e coraggiose, perché è già tardi per introdurre un tetto al prezzo del gas. E un tetto al prezzo del gas significa che in Europa nessun compratore compra al di sopra di un certo prezzo e in questo modo saranno i compratori a determinare le regole di mercato, non il venditore, che potrà solo limitarsi a bruciare il suo gas, come ha già fatto, ma bruciando così anche le sue entrate. Occorre farlo, ci vuole coraggio, ci vuole chiarezza. Infine, sul tema della piattaforma TTF, io non capisco veramente perché la Commissione è così cauta, così prudente a intervenire. C'è un problema di trasparenza, c'è un problema di mercato anfea, c'è un problema almeno di manipolazione in quel mercato. Occorre che ci mettiate le mani, non volete arrestare quella attività, cambiate mercato di riferimento per il prezzo del gas, lasciamo quella piattaforma, ma quella piattaforma è fatta più dalla fidanza che dagli operatori dell'energia, dovete intervenire.